E dunque eccomi qui a parlare nuovamente di un Copilot Plus PC, in particolare l'Acer Swift 14 AI. Un prodotto molto interessante perché dopo aver provato il Lenovo Yoga Slim 7X con lo Snapdragon X Elite, finalmente provo anche un computer con lo Snapdragon X Plus, così da poter avere una panoramica completa rispetto alle proposte ARM Windows, ovviamente realizzate da Qualcomm. In ogni caso non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Partiamo subito dal fulcro di questo dispositivo, vale a dire la piattaforma hardware, dunque lo Snapdragon X Plus, abbinato in questo caso a 16 GB di RAM e a 1 TB di SSD. Tenete bene a mente questa configurazione perché quando poi andremo a ragionare nelle conclusioni e abbineremo questa configurazione al prezzo a cui è possibile acquistare oggi l'Acer Swift 14 AI, insomma ci renderemo conto di quanto a livello commerciale questi Copilot Plus PC siano effettivamente interessanti. Dunque lo Snapdragon X Plus mi è piaciuto, diciamo che non è lontano anni luce da quelle che sono le prestazioni dell'X Elite, che riesce a fare meglio anche in maniera abbastanza netta da un punto di vista grafico, ma in realtà da un punto di vista diciamo prettamente prestazionale, quindi lato CPU, i due processioni sono davvero molto vicini tra di loro. Io ho provato a spingere l'Acer Swift 14 AI in operazioni complesse come il montaggio video, l'editing fotografico. Riesce a sopportare queste operazioni, certamente proprio per la minor potenza grafica in qualche modo l'esperienza d'uso è in qualche modo un po' meno soddisfacente rispetto all'X Elite, ma comunque porta a casa queste operazioni. Ho provato a montare come dire un video in 4K a 30 fps e tutto sommato è riuscito insomma a cavarsela bene. Rimane ovviamente il discorso, ma lo affronteremo poi sulla parte del sistema operativo, che purtroppo manca ancora una compatibilità con alcune applicazioni, in alcuni casi alcuni software di nicchia, ma ad esempio non sono ancora riuscito ad utilizzare Adobe Premiere su questi Copilot Plus PC, mentre invece su questo Swift 14 AI sono riuscito ad utilizzare Photoshop, seppur emulato, ma siamo sempre lì, proprio in questi giorni, barra queste settimane, dovrebbe arrivare la suite Adobe scritta appositamente per i Copilot Plus PC. In ogni caso, lato produttività spinta, lui tiene botta, anche rispetto alle temperature, fermo restando però che questo è un computer in cui, insomma, la dissipazione del calore in qualche modo non rappresenta il suo punto di forza. Detto questo, è chiaro però che si tratta di una piattaforma hardware che riesce molto bene, ma molto molto bene, a gestire le operazioni quotidiane, quindi navigazione tramite browser web, produttività tramite browser web, fruizione dei contenuti multimediali, oltre ovviamente alle sessioni di scrittura, peraltro lui mette a disposizione una combinazione tra trackpad e tastiera davvero convincente. Sottolineo questo aspetto legato alle operazioni di tutti i giorni perché, secondo me, queste macchine allo stato attuale hanno come concorrente, quindi guardano, proprio ai MacBook Air, che è vero, certamente hanno la possibilità di spingersi anche nelle operazioni complesse, nel montaggio video, nell'editing fotografico, ma hanno nella produttività light, definiamola così, il loro punto di forza. Secondo me, proprio come questi Copilot Plus PC. Quindi, lato, come dire, prestazioni, questo Snapdragon X Plus sinceramente mi ha convinto. E mi ha convinto ancora di più contestualizzando, ovviamente, queste prestazioni all'interno della scocca dello Swift 14Eye, realizzata in alluminio, molto solida, un po' più pesante rispetto ad alcuni diretti concorrenti, ma siamo comunque su 1,3 kg, quindi è un computer comunque leggero e facilmente trasportabile. E in più, il fatto di, come dire, non aver spinto troppo sullo spessore ridotto, ha permesso ad Acer di implementare comunque due porte USB, due porte USB-C e il jack audio per le cuffie, per cui anche a livello di connettività siamo messi decisamente bene. Dunque, piattaforma hardware che, lo ripeto, mi ha decisamente convinto. Altro aspetto caratterizzante è certamente lo schermo. Pannello da 14,5 pollici, è un pannello IPS, ha una frequenza d'aggiornamento variabile fino ai 120 Hz e una risoluzione che tocca i 2560x1600 pixel. Dunque, da questo punto di vista siamo lontani, per esempio, dalla resa del pannello del Lenovo Yoga Slim 7X, lì avevamo un pannello OLED, ve lo ricordo. Siamo, secondo me, lontani anche dalla resa complessiva del pannello, per esempio, dei MacBook Air, però è un pannello comunque molto buono. Peraltro soffre poco i riflessi sullo schermo perché ha una finitura quasi opaca e, devo dire, che è complessivamente un pannello che permette di godersi un film, di godersi i contenuti multimediali, perché no, anche di offrire una buona resa cromatica, fedeltà cromatica, in quelle operazioni più complesse come l'editing fotografico, il montaggio video, dove chiaramente la fedeltà cromatica ha un peso di un certo livello. Peraltro c'è la possibilità anche di far scendere lo schermo fino a 180 gradi, grazie alla cerniera, anche in questo caso, devo dire, un'implementazione molto solida, complessivamente questo è un computer che restituisce davvero una sensazione di solidità da un punto di vista costruttivo, e in più lo schermo è assistito da un comparto audio buono, ovviamente con un effetto stereo, non vi aspettate dei bassi incredibilmente profondi, anche qui i MacBook Air riescono a fare meglio, però, insomma, è un comparto che complessivamente, fra parte audio e parte video, offre un'ottima esperienza multimediale ed è poi un pannello che torna molto utile anche sulla parte produttiva. E veniamo adesso al sistema operativo, ovviamente Windows 11. Ora, inutile chiaramente approfondire tutto ciò che riguarda Windows 11, perché è un sistema operativo che conosciamo molto bene, e anzi, attendiamo con ansia Windows 12, il suo successore, ma ovviamente ci tengo a fare una parentesi sulla parte legata all'intelligenza artificiale, quindi tutta la parte dei co-pilot plus PC. Ora, con il passare delle settimane, Microsoft sta rilasciando una serie di aggiornamenti che piano piano stanno finalmente dando un senso compiuto a queste funzioni di intelligenza artificiale, che, lo sottolineo solo ancora, acerbe, non funzionano ancora nella loro interezza in italiano, ma finalmente si incomincia a vedere qualcosa di un attimino più concreto. Per esempio, co-creator su Paint, quindi quella modalità che permette, ad esempio, di fare uno schizzo e di trasformarlo poi in un disegno vero e proprio attraverso l'intelligenza artificiale, finalmente funziona. Funziona anche, come dire, senza andare a dare un input scritto, e nel caso in cui si vada a dare un input scritto, funziona finalmente anche in italiano. Ma vi potrei, per esempio, sottolineare anche la parte del creator studio e quindi di tutti gli effetti che è possibile applicare con l'intelligenza artificiale attraverso la webcam. Peraltro, sottolineo, qui abbiamo la compatibilità con Windows e l'Ovo, per cui ci si può autenticare su Windows con il riconoscimento facciale, che funziona molto bene anche al buio, e in più abbiamo anche il sensore per le impronte digitali, ovviamente implementato nella tastiera. Per cui i Copilot Plus PC, da questo punto di vista, piano piano stanno migliorando, probabilmente a livello commerciale avrebbe avuto molto più senso arrivare sul mercato con tutte queste funzioni decisamente più pronte rispetto a quelle che abbiamo in questo momento, però i passi in avanti ci sono e sono oggettivi. Rimane il problema della compatibilità con alcuni software, alcuni VPN ancora non funzionano, è molto probabile che alcuni software di nicchie aziendali possano non girare, ma non è colpo ovviamente dell'intelligenza artificiale, il problema è legato all'architettura dei processori, perché qui abbiamo appunto i processori con architettura ARM, però oggettivamente vedo dei passi in avanti. Certo, non posso dirvi che l'intelligenza artificiale oggi possa rappresentare un motivo di per sé per l'acquisto dei Copilot Plus PC, è un po' un paradosso, considerando questa nuova categoria di prodotti creati da Microsoft, però oggettivamente oggi la situazione è questa. Ma io sono molto fiducioso sul fatto che Microsoft possa, con il passare del tempo, implementare in maniera sempre più robusta questa parte sull'intelligenza artificiale, anche perché ci sono tante funzioni che ancora non sono state attivate, ma che sono state presentate, quindi insomma mi aspetto di poterle testare. Da sottolineare il fatto comunque che Acer ha implementato anche una sua intelligenza artificiale chiamata AcerSense, che ovviamente va a sfruttare quella che è la NPU, quindi l'unità di calcolo neurale integrata nella piattaforma hardware, che qui peraltro raggiunge i 45 Teraflops, quindi insomma numeri non da poco. Un'intelligenza artificiale è quella di Acer, che fondamentalmente riguarda soprattutto la gestione complessiva della macchina, quindi interviene anche rispetto alla piattaforma hardware, nulla di trascendentale rispetto alla parte di Copilot, ci sono ovviamente anche in questo caso degli effetti per la webcam, degli effetti per le videochiamate, viene migliorato l'audio durante la videochiamata, l'abbiamo testato, l'ho testato, ripeto nulla che faccia gridare al miracolo, però è giusto, come dire, sottolinearne la presenza. E poi chiudo questa recensione, prima ovviamente di passare alle conclusioni, con la parte legata all'autonomia, che ovviamente è un aspetto molto importante di questi Copilot Plus PC, perché poi la piattaforma ARM dovrebbe portare in dote un'autonomia finalmente, come dire, di alto livello anche sulle macchine Windows. E devo dire che effettivamente così è anche per lo Star Dragon X Plus, perché? Perché qui abbiamo una batteria da 75 Wattora, quindi una batteria anche abbastanza capiente, considerando la scocca del dispositivo. Viene integrato nella confezione di vendita un caricabatterie da 65 Watt, per cui tutto sommato, considerando che si tratta di un computer, la ricarica è anche abbastanza veloce, e Acer dichiara sulla scheda tecnica una durata di 26 ore, ma sappiamo bene che i dati comunicati sulla scheda tecnica in qualche modo fanno riferimento a degli scenari di utilizzo che non sempre è facile poi ricreare effettivamente nell'uso di tutti i giorni. Personalmente posso dirvi che quando ho utilizzato questo computer come mia macchina principale sono riuscito con la produttività tramite browser web, che poi rappresenta una parte importante del mio lavoro, lo sapete, faccio il giornalista, insomma sono riuscito di fatto a chiudere serenamente la giornata lavorativa senza dover collegare il computer alla presa elettrica. E questo, come dire, è un aspetto da non sottovalutare. Chiaramente quando il computer poi viene spinto in operazioni più complesse, montaggio io ed in fotografico, l'autonomia si riduce e molto probabilmente dopo le 5-6 ore potrebbe essere necessario il collegamento alla presa elettrica. Quindi molto dipende dall'utilizzo, ma considerando la logica con cui sono stati concepiti questi computer, personalmente ritengo l'autonomia davvero molto 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 buona. E allora vi dicevo all'inizio, tenete bene a mente la configurazione. Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM, un terabyte di SSD. In questo momento questa macchina con questa configurazione viene venduta sul sito ufficiale di Acer a 1399 euro. Vi lascio il link in descrizione. Dunque, 1400 euro per una macchina con tanta memoria e comunque con 16 GB di RAM e con l'esperienza d'utente che offre questo Acer Swift 14 AI secondo me è un eccellente prezzo e ci racconta come i Copilot Plus PC riescano a proporsi a livello commerciale in maniera molto più concorrenziale rispetto alle macchine Windows classiche basate sui processori X86. Un po' la stessa operazione che Apple ha fatto con i MacBook passando all'architettura ARM con i processori proprietari e con il passare del tempo i MacBook piano piano stanno scendendo di prezzo a parità di configurazioni e aumentando anche le memorie di base. i MacBook Air peraltro con l'ultimo evento Apple sono passati tutti a 16 GB di RAM come partenza quindi come configurazione base anche poi per poter utilizzare quella che sarà Apple Intelligence. Quindi 1399 per questa macchina è davvero un ottimo prezzo e vi portate a casa un dispositivo che per l'utilizzo per gli studenti produttività tramite browser web visione dei contenuti multimediali sessioni di scrittura è una macchina molto molto interessante che mi è piaciuta. Certo fra le due onestamente preferisco il Lenovo Yoga Slim 7X più che altro soprattutto per lo schermo e soprattutto per il fatto che comunque quasi a parità di prezzo riesce a fornirci lo Snapdragon X Elite che comunque un boost in più rispetto all'X Plus ce l'ha. Detto questo però questo Swift to the Swift 14 AI mi è piaciuto e secondo me potrà dire la sua a livello commerciale a patto però che Acer riesca a spingerlo in maniera adeguata da un punto di vista marketing. In ogni caso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se avete dubbi o domande io sono qui a vostra disposizione io per oggi ho concluso noi ci vediamo nei prossimi video.